Ben ritrovati, nuovo spazio di approfondimento dalla redazione di Torino, ospitiamo in studio Sergio Chiarla, ben trovato, buonasera, grazie professore di essere qui, docente di informatica all'Università di Torino, per parlare di un'esperienza che lei ha seguito molto da vicino, che sicuramente molti di quelli che ci stanno seguendo da casa conoscono per averla frequentata, quella di Bacheca.it, un'esperienza web che nasce dall'intuizione, dal genio, possiamo anche dire, di Paolo Geimonat, scomparso due anni fa, nel 2009, un progetto che continua e che va avanti. Allora, siamo qui per raccontare questo sogno, quest'idea e anche per ricordare un po' la figura di Geimonat, di Paolo. Esatto. L'occasione è stata, è questo libro che qui vedete, ma diciamo che lo vedete solo, questo libro, perché nella realtà, parlando di web di 2.0, questo libro non esiste di fatto come cartaceo, questo ce l'ha portato per farlo vedere, però esiste come e-book, ed è la storia rivissuta, riletta attraverso le mail, quindi strumento del web per eccellenza, che Paolo Geimonat ha spedito, ha ricevuto per creare questo suo sito, questo suo progetto. Lei ha un lettore di e-book qui davanti, ci spieghi perché, perché è così importante averlo e averlo su e-book soprattutto. Diciamo che nel momento in cui abbiamo pensato di riprendere tutto quello che Paolo aveva fatto nel suo lavoro, ci è venuto così in mente di realizzare questo contributo, quindi di questo libro, dove tramite i messaggi di posta elettronica di Paolo e i suoi articoli abbiamo cercato di riassumere quello che è stata la nascita di Bacheca.it vista dall'interno, quindi tutto quello che è stato l'entusiasmo della prima idea, l'entusiasmo di creare le prime colonne portanti dell'iniziativa, fino alla messa online del progetto e tutto quello che ne è seguito. Quindi si può anche in Italia fare web company in processo? Non bisogna solo guardare all'estero o guardare al facelo? Si può e, come dicevo, nel ricordare Paolo, oltre al libro abbiamo fatto un incontro la scorsa settimana dove abbiamo invitato delle persone che hanno realizzato dei progetti web estremamente significativi. Cito ad esempio Gianluca Dettori che è stato l'anima di Vitaminic e adesso CondiPixel segue alcune start-up in ambito web. Cito Vitolomele, Job Rapido, che è un aggregatore di tutti i siti di cerca lavoro che possono esserci in Italia e nel mondo, perché ormai questa azienda, Job Rapido, ha avuto una evoluzione mondiale, quindi in questo momento sono oltre 100 le persone che lavorano in questa iniziativa e ha notevole successo. Per non parlare di Easybit, SoSimple, che sono legati a Bacheca e a Bravo Solutions, che anche qui rappresenta, pur essendo una società che in questo momento opera da Londra, è italianissima ed ha avuto anche il pregio di acquisire alcune società a livello mondiale. Quindi certamente sul web si possono fare dei bellissimi progetti. Più facile affari sul web che nell'economia tradizionale? Direi proprio di sì. Faccio l'esempio di Job Rapido che nel corso dell'incontro ha detto sono partito in cucina inserendo il mio server in cucina e di lì ho iniziato. Quindi certamente il costo del web e il costo delle apparecchiature o tutto quello che può essere l'infrastruttura in questo momento non rappresenta più un problema. Quello che conta, e lo dico sempre ai ragazzi soprattutto a livello universitario, quello che conta sono le idee. Sono le idee che ovviamente devono essere supportate dalla sostenibilità del progetto. Quindi l'idea ci vuole, poi ci vogliono senz'altro delle persone che conoscono l'ambiente e ti possano dare la conferma che la tua idea è realizzabile e soprattutto non solo realizzabile ma sostenibile. Perché a questo punto è chiaro che il fatto di poter creare oltre che soddisfazione anche ricchezza alle persone che condividono con te il progetto penso che sia uno dei primi fondamenti dell'imprenditoria. Ecco questo è il concetto. Sia essa tradizionale sia essa web. Rimanendo all'imprenditoria web, lei ha citato l'incontro, il convegno che avete tenuto negli scorsi giorni del 17 di novembre ed è nato da questo convegno l'idea di titolare a Paolo Gemma è nato un premio proprio per aiutare le fasi di start up di giovani e nuove idee. Come si fa a partecipare, chi fosse interessato, che requisiti deve avere? Certo, diciamo che volevamo dare continuità all'iniziativa. Tutte le volte quando si creano delle iniziative si ha sempre il timore che finiscano nel momento in cui si sono realizzate. Il fatto di, soprattutto in questo momento economico dove abbiamo bisogno di idee nuove, di contributi diciamo nuovi a quelle che possono essere le tradizionali idee imprenditoriali, abbiamo pensato di creare questo premio J-Monat che sostanzialmente darà come premio la realizzazione in termini ovviamente di business plan e di sostenibilità ai progetti che ci vengono inviati. seguendo la pagina Facebook, basta scrivere J-Monat su Facebook, si arriva alla pagina dove noi abbiamo realizzato la pagina fan sia del libro e sia del premio e dell'iniziativa, si possono prendere tutte le informazioni per poi mandarci e comunicarci queste idee. Il tutto terminerà a maggio dell'anno prossimo dove effettivamente una giuria di persone ovviamente che hanno la capacità di muoversi in questo tipo di ambito darà il premio alla o alle soluzioni che possono essere più interessanti. Ecco, questo era proprio per dare continuità a questo tipo di discorso. Per riprendere il discorso che mi faceva prima, certamente abbiamo pensato all'ebook perché, direi per vari motivi, per la prima volta in questi mesi in America, ma direi a livello mondiale, Amazon ha venduto più ebook rispetto ai libri tradizionali, compresi i libri tascabili, queste sono le ultime indicazioni. Quindi significa sostanzialmente che l'utilizzare l'ebook è diventato per certi ambienti una cosa ormai normale. Le faccio l'esempio, io ho questo lettore di ebook ormai da sei mesi, sei, sette mesi, ho aumentato a dismisura la mia velocità di lettura e soprattutto voi pensate che in un etto e mezzo... La praticità di portare in tasca. Esatto, in un etto e mezzo ci sta, oltre all'ultimo libro di Ken Follett che da solo pesa un chilo e un quarto, tutta un'altra serie di libri. In questo momento io ho un centinaio di libri ma qui dentro ce ne possono stare anche mille. Per cui non ci sono assolutamente problemi, è sempre con te, leggi quando vuoi. L'Italia è certamente leggermente più indietro rispetto agli altri paesi. Quindi il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di cultura. Abbiamo provato con questo tipo di iniziativa, voi potete andare su una pagina speciale che abbiamo creato per scaricare questo libro di cui vi parlerò appena finisco questo... Abbiamo due minuti prima di chiudere, quindi forse è meglio se ricordiamo questa pagina su rettedeldono.it e per il libro e anche per aiutare famiglie magari in difficoltà. Esatto, perché? Perché anche l'iniziativa non poteva avere scopi commerciali, questo era sostanzialmente l'obiettivo che ci siamo posti. Quindi insieme a Rete del Dono che rappresenta un altro esempio di applicazione web estremamente importante, interessante, perché è il primo esempio italiano di fundraising a favore delle associazioni. Bene, tramite Rete del Dono è possibile scaricare il libro facendo anche una piccolissima donazione. Il libro vi verrà inviato via post elettronica e voi potreste leggerlo. È ovviamente consigliato ai giovani e a tutti quelli che ovviamente si sentono giovani e pensano ancora di rimettersi in gioco facendo o creando una nuova attività. Va bene, la storia, la troppo breve storia di un sognatore, Paolo Geimonati, il papà di Bacheca, cura di Sergio Chiarla. Grazie, andate su rettedeldono.it per farvi mandare via mail il libro e anche per ovviamente contribuire in questo caso al progetto della Casa di Odds che è questa associazione, abbiamo già parlato anche nel corso di altri spazi di approfondimento che segue da vicino le famiglie e i bambini in difficoltà che hanno bisogno di cure e che magari hanno bisogno anche di rimanere a Torino per queste cure. Grazie, grazie ancora. Buon lavoro e arrivederci a presto.